Buona domenica con Cieli Nuovi Terra Nuova che entra nelle vostre case per condividere la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, vale a dire l'ultima domenica del tempo ordinario. Domenica prossima, Dio piacendo, 3 dicembre, noi inizieremo il percorso di avvento che introdurrà la comunità tutta al Natale e successivamente all'epifania di nostro Signore. Dunque, nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, è la certezza della nostra fede. Direi che il cuore pulsante è la convinzione netta della nostra fede cristiana, che nasce dalla morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo stesso. Ecco, abbiamo il nostro ospite, Monsignor Mariano Assogna. Buona domenica a tutti. Lo ringrazio perché ci ha tenuto compagnia per tutto questo mese di novembre e con lui vogliamo soffermarci su questo Vangelo. Siamo ancora al capitolo 25, questa volta gli ultimi 15 versetti, il discorso escatologico di Gesù, lo abbiamo già detto, e oggi lo ascoltiamo, direi forse, nel Vangelo più importante che ci prende così come siamo, con le nostre attività, i nostri pensieri, le nostre attenzioni. Dal Vangelo secondo Matteo dunque. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radonati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere. Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito. Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti. E il re risponderà a loro. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra. Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, non mi avete dato da bere, ero straniero, non mi avete accolto, ero nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche essi allora risponderanno, signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito, allora egli risponderà a loro. In verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Eh, bel Vangelo. Ci prende così come siamo, eh? Non abbiamo difese se non quelle, come ci ricordava, ci ricorda la scrittura, di venire giudicati sull'amore. Don Mariano, Cristo Re, ultima domenica del tempo ordinario. Ancora a voi tutti buona domenica, buona festa. La festa di Cristo Re è stata istituita nel 1925 dal Papa Pio XI. È il periodo post Prima Guerra Mondiale e qui è da ricordare che in quel tempo il Papa diceva, attenzione, che le armi tacciano ma i cuori sono armati. Se si continua così vedremo il peggio, che purtroppo è venuto, lui non l'ha ricordato perché è morto nel 1939. Il peggio della Seconda Guerra Mondiale. In quel tempo si stavano affermando diversi sistemi totalitari, cominciando dall'Italia, la Germania, la Russia, il Messico, la Spagna. E la gente vedeva in questi personaggi, dittatori, re, principi, vogliamo chiamare, ecco, dei punti di riferimento. È arrivato chi ci salva. Il modo di pensare che io non ho vissuto perché sono arrivato dopo, ma chi è conosciuto quel tempo racconta queste cose. E davanti a questa posizione delle persone, il Papa nella sua lettera Quas Primas, che è un po' un discorso programmatico del suo pontificato, ricorda che l'unico re è Gesù Cristo. Lui solo dobbiamo adorare, lui solo dobbiamo pregare. Quindi ci ricorda il primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me. E qui posso citare il Papa San Clemente I, martire. Ieri abbiamo celebrato la sua memoria. Vero. Ecco, tante chiese della nostra Diocesi. Oltre a Santa Caterina di Alessandria, ieri proprio, tra l'altro saluto, così incidentalmente, le suore oblate del bambino Gesù che loro hanno proprio, perché hanno proprio in Santa Caterina e anche a Città Ducale, hanno la loro patrona, protentrice proprio. Prego, prego. Ebbene, questo Papa, nella sua lettera ai Corinzi, in cui si affermano, si cominciano a vedere anche, ecco, il primato del Papa, del Vescovo di Roma, sulla Chiesa, ecco, Papa Clemente ribadisce, scrivendo ai Corinzi, non dovete pregare quelli che stanno al potere, ma dovete pregare per coloro che sono al potere. Perché quando noi preghiamo coloro che sono al potere, a Dio, primo comandamento. Quindi, è una cosa che ci va a riflettere anche oggi, sempre, in ogni momento. Pregare per loro, non pregare loro. Noi non abbiamo altro Dio all'infuori di te. Primo comandamento. Allora, ecco, con questa festa, Papa Pio XI ricorda a tutti noi, anche oggi, ecco, Cristo è il re dell'universo. Perché è il re dell'universo? Perché ha servito donando la sua vita, amandoci fino alla morte e alla morte di croce. E ci viene a dire, Gesù, anche voi amatevi come io ho amato voi, pronti al dono della vita. Qui avviene la trasmissione della fede. Eh già. Ecco, noi molte volte pensiamo con i discorsi da fare alle nuove generazioni. No. La fede passa attraverso la testimonianza. Ecco, quando, già l'ho detto, lo ripeto, lo dico sempre, diciamo, la messa è finita, andate in pace. Il ladino ancora più bello, ite misa est. Continuate nella vita ciò che avete celebrato. Date voi stessi da mangiare. Questo ci introduce al Vangelo di oggi. Il giudizio universale. Quando il Signore moltiplica i pani e i pesci, dice agli Apostoli, date voi stessi da mangiare. Questo riguarda anche oggi per noi. Diamo noi stessi da mangiare. Allora, ecco, davanti al giudizio universale che sicuramente ci fa paura, solo a pensarlo, ho già la parola giudizio. Ecco, però il Signore ci dice già le domande che ci farà. Quando io si frequentavo l'università. E come no? Era sempre un rischio. Mai posso dimenticare. Che domanda ci verrà posta? Sì, io mi ricordo, permettevi di ricordare due esami che mai dimenticherò, anzi tre. La filosofia medievale, poi mi ricordo cristologia, tre volumoni, oltre duemila pagine. Ancora l'esame di diritto privato. A chi lo dici diritto privato? Diritto privato. Cosa mi chiederà? Allora, magari prima di entrare a chi usciva, che chiede? Che chiede? Che tagliesti. Gesù invece ci dice subito quello che ci domanda. Che ci chiederà nel giudizio universale? L'abbiamo sentito. Tranquillamente. Noi le domande le conosciamo, quindi prepariamoci a dare queste risposte. Ecco, saremo interrogati sulla carità. Ecco, la persona di Gesù Cristo, qui viene presentato il giudice, viene chiamato il re, viene chiamato il figlio dell'uomo, viene chiamato il pastore. Quindi tutte queste definizioni ci riportano a Gesù Cristo. Ecco, nel profeta Ezechiele, che è la prima lettura. È la prima lettura molto bella. Molto bella, cioè mi rivolgo a voi, mio greggio. Quindi ecco la figura del pastore che emerge. Un pastore, come dice anche nel Salmo. Che non dimentica nessuno, ci dice Ezechiele. Dice ecco, parlando ecco, mio greggio, a voi mi rivolgo. Sono questi i lineamenti che sono riferiti a Gesù Cristo. E quindi lui vuole la nostra sapienza, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Allora, carissimi, dopo ecco questi tratti di Gesù che ci vengono presentati dall'Evangelista Matteo, ecco ci fa vedere la figura di Gesù Cristo che si identifica con le persone povere, marginate, emigrate, immigrate, malate, sofferenti. Si identifica con loro perché quando dice l'avete fatta a me, è come dire io sono uno di loro solo. Allora mi limito a fare tre piccole citazioni, ma ne potrei fare una marea nel Vangelo. Ecco Gesù, già da quando è nato, noi tutti, il Vangelo di Luca ce lo racconta, non c'era posto per lui nell'albergo, già allontanato, forestiero e non mi avere ospitato. Ecco questa dimensione l'ha vissuta, ma non solo nella natività, ma anche subito dopo, quando diventa emigrante in Egitto. Pensiamo anche qui alla figura di San Giuseppe, tante volte ci penso nelle mie riflessioni, ecco quest'uomo che gli appare Dio in sogno, ecco i sogni di Dio diventano i suoi sogni e apre una strada. E non proferisce parole. Non apre mai bocca, almeno nel Vangelo non c'è mai scritto. E ce ne avrebbe avuto ben donde, eh? Sicuramente. Da poter parlare secondo la mentalità dell'epoca. Quindi ecco, lui è stato un emigrato in Egitto. È vero. Poi non dimentichiamo, è stato il crucifisso. È stato il crucifisso. Ecco adesso viviamo il mistero dell'incarnazione, prossimamente il Natale, ma pensiamo, ecco l'altro grande mistero della nostra fede, il mistero della redenzione. Ecco Gesù che muore in croce e come ci dirà il Vangelo di Marco, da quella croce scaturiscono le conversioni, ecco il dono della vita, che cambia la vita, cambia la tua vita. Una croce gloriosa. Gloriosa. Cambia la vita delle persone che ti sono affidate, delle quali tu ti devi prendere cura. Ecco la parola che ci viene detta, amatevi come io vi ho amato, risuona nel Vangelo, nelle lettere, pensiamo le lettere di San Giovanni, ecco Dio è amore. Dio è amore. Ecco, e ci viene detto come anche noi possiamo diventare amore. Allora ecco la seconda lettura, lo stato, passare dallo stato di peccato alla grazia. Prima Corinzi. Ecco, l'uomo in Adamo, l'uomo in Cristo, è la grazia di Dio che ci fa scoprire la bellezza delle persone. Ecco vorrei richiamare nel libro della Genesi, ecco, parto proprio da Adamo e Delema. Sì, come no. Ecco, quando Dio crea l'uomo e poi la donna, Adamo davanti all'essere simile, cosa dice? Questa sì che è ossa delle mie ossa. Ossa delle mie ossa. E carne della mia carne. La mia carne. Sì, è vero. Quindi un elogio dell'essere simile. Magari poi se ne è dimenticato nel momento del peccato, però questo è un altro discorso. Era nello stato di grazia quando Adamo dice queste cose. Elogia Dio per l'essere simile e lo elogia ancora più di tutte le altre cose create, animali creato compreso. L'uomo era cosa molto buona, il resto era cosa buona. Su questo riflettiamoci. In tante occasioni c'è un molto. Ecco, l'uomo ringrazia Dio, questa sì che è ossa delle mie ossa, questa ci voleva. Ecco, dopo che succede? Quando interviene il peccato, Adamo non dice più queste cose, ma dirà a Dio la colpa è tua che mi ha messo vicino questa donna. Quindi, vedete, il peccato distrugge ciò che è bello. Quell'ossa della mia ossa, carne della mia carne, diventa un ostacolo. Prima hai ringraziato Dio per questo dono, dopo lo insulti per questa donna. Allora, vedete cosa fa il peccato? E quando nella seconda lettura San Paolo ci parla, l'uomo nella grazia, l'uomo nel peccato, ecco, ogni momento è opportuno perché ciascuno di noi possa passare dal peccato alla grazia. Ecco il grande dono del sacramento della confessione. Ti perdono. Dio dimentichi i tuoi peccati. Ecco l'indulgenza che abbiamo vissuto in questo mese di novembre dei defunti, per le anime sante e benedette del purgatorio. Ecco, passare dal peccato alla grazia per godere la visione beata di Dio nella gioia del cielo. Quindi ecco nella seconda lettura ci viene detto in che modo io vedo Cristo nell'altro. Ogni giorno in grazia di Dio posso dire grazie o Signore per l'essere simile che mi hai posto accanto. Non è per me un ostacolo, come mi dice il peccato, ma è un'occasione per poter crescere insieme e fare comunità, due o tre uniti nel mio nome. Io sono in mezzo a loro, sono parole di Gesù Cristo. Vedete allora il Dio non è un Dio lontano, il motore immobile di Aristotele, ricordando la filosofia, del pensiero del pensiero. Ecco Dio è con noi, Dio cammina con noi, è a fianco a noi, ci conduce sulla via della vita, è vicino nel fratello sofferente, malato, carcerato, immigrato. Attenzione che tutte queste persone un domani saranno in quella moltitudine immensa di cui vada l'Apocalisse che nessuno poteva contare. Li ritroveremo lì, ma li incontreremo perché loro ci accolgano, in quanto li abbiamo resi felici nel cammino della vita? Oppure pensiamoci in questo oppure? Ecco attenzione, noi li troveremo in paradiso ai poveri, diceva un santo sono i nostri padroni, sono loro un giorno nelle porte del cielo ad accoglierci. Allora chiediamoci come oggi noi viviamo, accogliamo, viviamo la relazione con queste persone, ricordiamoci sempre, l'avete fatto a me. Nel santo rosario, nei misteri luminosi introdotti dal santo Papa Giovanni Paolo II, ci sono i misteri della luce. Il terzo mistero, ecco mentre gli altri raccontano i misteri della nostra fede, ecco quando ci siamo in rosario ogni giorno, per me è una continua meditazione dell'opera di Dio nella mia e nella nostra vita, c'è uno che dice l'invito alla conversione, ecco questo riguarda tutti, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione del cuore, altrimenti noi mai vedremo nell'altro il volto di Gesù Cristo. Ecco anche quando facciamo quell'elemosina e vi invito a farla con gioia alle persone in difficoltà che incontriamo nei gruscicchi delle strade davanti ai supermercati, ecco la prima cosa, oltre che dare quegli spiccioli, cerchiamo di vedere in lui il nostro fratello. Io ricordo un episodio di alcuni anni fa, mi trovavo in piazza e una persona mi venne a chiedere soldi e io ho fatto delle domande così fraternamente e lui mi ha annunciato a tirar fuori la foto dei figli, della moglie e mi ha raccontato la sua vita e io l'ho ascoltato. La cosa che è impressionante è che alla fine lui nel salutarmi neanche più i soldi mi chiedeva, era stato contento che io l'avevo ascoltato e poi mi ricordo che tutti si è concluso di guarda io dovevo andare a pranzo, andiamoci assieme e poi a lui fu molto anche educato, diceva non vorrei fargli spendere troppo eccetera, abbiamo mangiato, l'invitei a prendere qualcosa per la cena. Questo mi è rimasto impresso, mi ha dato una lezione questo ragazzo, non so se ancora gira per ieri perché parlo di tanti anni fa, perché ecco una lezione diceva noi subito i soldi, no questo chiedeva di poter dialogare con te, parlare con te. Questo è un problema del nostro vivere quotidiano. Di essere ascoltato. Ecco dicevo l'altra volta, le opere di misericordia non sono solo materiali, ci sono anche quelle spirituali. Quindi tanta gente chiede di essere accompagnata nel cammino da vita. Mettiamoci in ascolto perché ascoltiamo Cristo che continua a dire io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ossia sempre. E vorrei concludere. Io vorrei concludere con un paio di flash. Il primo, collegare la tua riflessione e quello che il Vangelo e le letture di questa domenica ci dicono, alla giornata che il Papa oggi ci ricorda di vivere, e cioè la trentottesima giornata mondiale della gioventù. Siate lieti nella speranza. Era un invito di Paolo ai Romani. Lieti nella speranza. Ecco purtroppo questa gioventù, Don Mariano, non so se abbia tanti motivi per essere lieta, ma nella speranza ci deve entrare. Che ne pensi di questo messaggio? Ma è ciò che dico molte volte nella mia parrocchia di Regina Pacis, ci sono tanti giovani ragazzi, bambini. Molte volte dico alla gente, diciamo che noi stiamo pregando, quelli fuori fanno rumore, poi col canestro, tu, tu. Io mi dico, dico a me stesso, lo dico anche agli altri, condivido anche nelle riflessioni. Questi ragazzi non vanno giudicati. Chiediamoci in quale responsabilità abbiamo perché loro non entrano nella Chiesa, perché non si avvicinano a Gesù Cristo. Interroghiamoci noi. Noi siamo portatori di speranza. Quei ragazzo che vede in me, in me, trova elementi per poter dire, voglio conoscere Gesù Cristo? Ecco, richiamo il discorso anche della Samaritana, del cieco nato, del Vangelo. queste persone, a me il Signore mi ha salvato, ho visto, mi ha detto tutto sulla mia vita, hanno raccontato. Pensiamo a Giovanni che addirittura, l'Apostolo, ricorda anche l'ora del suo incontro con Gesù. Noi cosa raccontiamo di Gesù perché l'altro si possa innamorare di Gesù? Abbiamo delle grosse responsabilità, c'è una grande speranza, annunciamola. ecco, lieti nella speranza. Qui a un certo punto il messaggio del Papa, come dicevo prima di quando ci siamo incontrati, dov'è la mia speranza? Prima di tutto lo chiede a me, sacerdote e parroco, chiediamocelo tutti, perché poi questa speranza deve essere raccontata, testimoniata. Questo mi permette anche, e concludo, di collegare la giornata di ieri, 25 di novembre, la giornata mondiale contro l'eliminazione della violenza sulle donne. Ora è evidente che l'antualità quotidiana anche del nostro Paese ci permette di preoccuparci, probabilmente, di quello che accade nei confronti delle donne, nei confronti di questa mentalità che sopraffa la personalità della donna nei suoi diritti. Sembrerebbe che il dovere della donna non esista più se non quello di essere madre, quello di essere sposa, quello di essere elemento positivo nella dialettica di questo mondo. Ecco, quale risposta possiamo dare ai dubbi, allo smarrimento che c'è? Oltre cento persone, donne, sono state uccise dentro le mura domestiche e non solo, sopraffatte anche da un'indifferenza che schiaccia proprio nella personalità più vera. Sicuramente qui uniamoci alla preghiera di Papa Francesco, quotidianamente vediamo anche lui questa direzione di sofferenza. Quasi che il crimine sia qualcosa di normale nella nostra vita. Ecco, sicuramente noi cristiani pregare di più, essere più incisivi nella nostra storia, anche nel rapporto delle persone. Ecco, anche qui il giudizio non aiuta nessuno. È vero? Nessuno. Se noi giudichiamo chi fa queste cose, è come impegniamoci di più nel dare la nostra testimonianza cristiana. Ecco, noi notiamo e se leggiamo il Vangelo, la letteratura, la storia della Chiesa, che nulla è impossibile a Dio. Ecco, fidarci del Signore, ripeto, senza giudicare ma amando. Manifestiamo la nostra vicinanza, la nostra preghiera, la nostra solidarietà alle persone che soffrono. Penso in questo momento ai familiari di questa ragazza Giulia. Giulia, sì. Ecco, ma anche ho pensato e ho pregato anche per l'altra famiglia. Eh, purtroppo. Anche lì c'è sofferenza. Sicuramente la giustizia farà il suo corso. Non c'è dubbio. Però è con noi cristiani, come Gesù ci ha insegnato, non dobbiamo giudicare. Non passiamo oltre. Dobbiamo amare. Ecco, dimmi, dimmi. Vorrei concludere, perché vedo che siamo verso la conclusione, vorrei citare un'espressione che ho trovato nella lettera di San Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor. La Veritatis Splendor, sì. E lui dice una frase che io mi sono scritta e vorrei dirla a voi che ci aiuta a capire tutto ciò che abbiamo detto. E cita un poeta latino, giovenale. L'esatire, sì. Dice, valga per tutti, dice, Papa Giovanni Paolo II, per tutti, anche per noi preti, per noi cristiani, per tutti, l'espressione del poeta latino giovinale. Considera il più grande dei crimini preferire la soravvivenza all'onore e per amore della vita fisica perdere le ragioni del vivere. Ecco, una fase che facciamo nostra. Sì. E a conclusione, io, ringrazio Monsignor Mariano Assonia per questa presenza di ottobre. Concludo facendo gli auguri filiali al nostro Vescovo Emerito Delio Lucarelli, che venerdì scorso ha compiuto i suoi primi 84 anni. È un saluto filiale di gratitudine per il suo ministero che è durato dal 97 fino al 2015. Anni fecondi che hanno visto anche la celebrazione di un sinodo diocesano. Anni che hanno permesso anche una profonda riflessione all'interno della Chiesa di Rietido, Mariano. Ecco, un saluto anche da parte tua a Monsignor Lucarelli. Adesso lo vado a trovare, porto i saluti di tutti. Senz'altro. Passo in questo momento a trovarlo. Sì, bene, bene. Ed allora, grazie a voi, grazie Don Mariano. Grazie Fabrizio. a questa compagnia positiva che hai tenuto insieme ai nostri telespettatori e a tutti voi. Una buona domenica all'insegna e nel nome di Cristo, Re dell'universo. Buona domenica a tutti. Che Dio vi benedica. Buona domenica a tutti.